viaggio verso l'anima questo il titolo del libro di poesie scritto da stefano de angelis per calabria letteraria editrice edizione rubettino un libro dove si percepisce in maniera del tutto spontanea e radicale l'immediatezza con cui i sentimenti più sbariati si susseguono in diverse fasi temporali una raccolta di poesie dove l'autore pone il lettore di fronte ad una tela segmenta di lino tessuta al telaio come fosse sipario da aprire su un palcoscenico variegato di emozioni con queste poche ma significative parole tratte dalla prefazione sul libro fatta da rossella garreffa abbiamo incontrato stamani nella meravigliosa location di palazzo reginella bovalino l'autore del libro stefano de angelis è un autore polietrico che ha tratto spunto in ogni suo rigo dal morboso amore per la vita e per la natura in particolare e dove il mare rappresenta l'elemento principale e preziosa fonte di ispirazione de angelis è un ex sotto ufficiale dell'aeronautica militare con oltre 40 anni di servizio attivo che lo hanno visto protagonista in tante missioni sia nazionali che internazionali le vicissitudini della vita una volta smessa la divisa lo hanno portato in calabria ed a bovalino in particolare luogo dove è riuscito a coniugare l'amore smisurato per la vita e la bellezza paesaggistica di questi luoghi che ancora oggi rappresentano per lui la principale fonte di ispirazione buongiorno a tutti siamo a bovalino in provincia di reggio calabria e siamo ospiti della struttura alberghiera palazzo reginella una struttura di proprietà della famiglia primerano motivo della nostra visita e l'incontro che abbiamo voluto realizzare con un personaggio poliedrico che vive ormai da tanti anni in calabria ed in particolare a bovalino parliamo di stefano de angelis scrittore poeta ma anche fotografo e pescatore per passione con un amore un amore sconfinato per la natura in generale e il mare in particolare siamo giunti a questa conclusione leggendo una sua breve frase tratta dalla recensione che nel 2019 ha fatto in occasione del ventennale della nascita del personaggio televisivo montalbano una frase che diceva così ti svegli la mattina apri la finestra sorseggi un caffè accompagnato dall'odore del mare una vista che ti impone di sorseggiarlo appoggiata alla balaustra che quasi ti sostiene ai mille pensieri della vita e della realtà umana ecco stefano cos'è per te il mare innanzitutto buongiorno a tutti sono davvero di essere contento in questo momento di essere qui di poter dire due parole di me stesso per questa occasione il mare per me è la vita lo scrivo sempre il mare è vita sin da quando ero piccolissimo sebbene abbia delle origini diametralmente opposte il mare per me è stato sempre la vita e continua ad esserlo tutt'oggi stefano proprio traendo spunto dal fatto che non sei nativo di bovalino quindi sei stato diciamo tra virgolette trapiantato in questo territorio e parafrasando tra l'altro il titolo di un film di sordi un americano a roma potremmo dire un romano a bovalino come mai e perché beh sì non ci sono solo io romano comunque siamo in pochi le vicissitudini della vita ormai sono 14 anni che sono qui ho conosciuto la mia attuale moglie abbiamo deciso di venire ad abitare qui stabilmente dal 2010 e credo che tutto questo mi abbia fornito degli indizi su cui basare un futuro e il futuro per me adesso è qui stefano che differenza hai trovato tra il tuo mondo inteso nel senso professionale e anche familiare a questo punto è quello che hai trovato invece venendo a vivere in calabria e soprattutto qui a bovalino dove sappiamo tutti che è un territorio non molto facile da vivere ma che dà anche tante soddisfazioni sicuramente io provengo da una famiglia di militari che mi ha dato l'educazione un'ottima educazione prima di tutto e questa educazione l'ho portata con me per tutta la vita sino a questo momento sono due esperienze completamente diverse sì l'educazione mi ha fondato personalmente e la calabria mi ha dato l'occasione di poter concedermi un pensiero in più su me stesso approfondirmi su determinate cose che volevo approfondire veniamo anche all'aspetto personale mi sono permesso di darti del tu stefano anche perché siamo ex colleghi oramai tutte e due posti in una posizione diciamo di riposo ma per oltre 40 anni entrambi abbiamo dato alla patria alla nazione tutto quello che avevamo come valori e tutto il resto che riguarda l'ambito lavorativo ecco dicevo appunto tu sei stato un militare di carriera con oltre 40 anni di servizio nell'aeronautica militare con impegni oltre che nazionali anche e soprattutto negli ultimi anni anche in diverse missioni umanitarie di pace all'estero ecco come ti ha cambiato se ti ha cambiato questo genere di vita nuovo rispetto a quello che era la vita militare e che aveva il suo perimetro soltanto nell'ambito nazionale sicuramente l'ambito militare la carriera militare mi ha formato il carattere una parte del carattere ma mi ha portato anche a delle riflessioni profondissime soprattutto con le missioni fuori all'estero e cito in modo particolare la Bosnia quando vedi determinate situazioni che senti magari nella vita quotidiana sentire definirle nelle nei programmi delle televisioni e invece quando le tocchi veramente con mano le riflessioni diventano estremamente profonde la calabria sicuramente risulta un sollievo nell'anima per me perché ripeto vedere determinate situazioni una guerra è una guerra con tutte le problematiche sì sicuramente soprattutto quando le analizzi si trovi ad analizzarle con tantissime persone che fanno lo stesso lavoro la calabria mi ha aiutato molto a tirarmi fuori da questi ricordi molto pesanti le guerre segnano chiunque anche forse chi le vive marginalmente poi se si fa un determinato tipo di lavoro non potranno mai essere cancellate infatti sono ricordi che segnano non solo non soltanto dal punto di vista psicologico ma anche nel fisico e ovviamente tanti dei nostri colleghi sono stati segnati in questo senso sì indubbiamente pensare che tantissimi colleghi non sono più ritornati è difficile poter accertare determinate cose io ricordo sempre quella frase di un film paradossalmente fratelli nella notte ebbene quando si è si lavora in determinate circostanze si è fratelli nella notte io ho visto i contingenti italiani portare un sorriso grandissimo a queste popolazioni martoriate da queste situazioni estreme ne sono estremamente fiero stefano le tue passioni da cui dici sempre ovviamente di non poter prescindere come sappiamo ormai tutti seguendo anche il web sono la poesia il mare e la fotografia e potresti metterle in ordine di importanza e spiegarci magari come sono nate sì sicuramente senza ombra di dubbio il mare è la prima il mare ha un'anima che descrivo descrivo nelle mie poesie l'anima e bellezza io dei ricordi lontanissimi del mare del mare di ansio quando quando andavo a trovare i miei compari vicino roma una settantina di chilometri a sud da roma e mi ha sempre affascinato dal primo momento di questi ricordi proprio lontanissimi poi sicuramente c'è il lobby chiamiamolo hobby della pesca mio padre mi ha iniziato a questo hobby quando avevo cinque anni ero piccolissimo e mi è rimasto molto impresso e tuttora ho avuto modo anche di sviluppare per altri versi questa passione facendo pro staff per diverse importanti aziende di pesca la scrittura è va di pari passo perché mi è sempre piaciuto scrivere la poesia coglie sicuramente l'attimo più profondo di me stesso è una riflessione profonda di me stesso e che sintetizza in fondo tutte queste mie particolarità se vogliamo chiamarle così la fotografia dimenticato stefano che tra l'altro è quella che forse usando in quasi tutti usando i social apprezziamo nei post che tu metti ecco la fotografia è un altro aspetto del tuo carattere che ci fa capire molto di quello che è il tuo animo sensibile e di attaccamento anche alla natura ecco com'è nata questa passione per la fotografia sì qui devo sicuramente il mio pensiero ritorna a mio padre che era è stato un grandissimo fotografo per l'aeronautica militare ed ha anche collaborato con l'agenzia spaziale italiana per la fotografia sicuramente mi ha passato un po questa passione nello stesso tempo è sempre una forma di sintesi di quelle che sono le mie passioni alla base c'è l'osservazione della bellezza davvero non mi sarei aspettato questo apprezzamento da parte di tutti nel vedere ciò che fotografo come lo fotografo ma sicuramente sintetizza un po quello che ho dentro io quello che sono io e un altro aspetto che ci ci rende molto curiosi è quello di riuscire a capire come ti sei ambientato nel nostro territorio che come dicevamo prima è un territorio particolarmente difficile ma con tanti anche con tanti aspetti positivi ecco cosa apprezzi di più della nostra terra e cosa invece ti ti può dare un po di fastidio proveniendo da una città come roma io non sono mai stato un tipo la città con gli amici andando a pesca ci ritroviamo sempre a guardare questo giardino che scende al mare la calabria ha una natura dire bellissima forse non la rappresenta è una natura forte dai contrasti incredibili la pesca è quel filo sottile che mi ha unito un po a tutti gli amici che ho qui e che mi accompagna giorno per giorno nella visione di queste cose quello che mi dà il bello e il brutto esiste dappertutto è una legge di vita il bello e brutto esiste dappertutto io vorrei vedere questa regione lontana un po da da questi apprezzamenti negativi perché sicuramente non lo merita ho degli amici incredibili delle persone incredibili qui che mi hanno anche sostenuto in questo progetto di questo libro per cui secondo me è sempre una questione di prospettiva di come vedere le cose e sicuramente lascerei stare un po la calabria da queste osservazioni così pesanti a questo punto anche retrograde perché oramai non si fa altro che parlare sempre delle solite delle solite cose ma in effetti come detto tu la calabria è anche molto altro e stefano veniamo adesso al motivo principale del nostro incontro che ci servirà a scoprire ancora di più il deangelis scrittore e poeta da pochi giorni è stato pubblicato il tuo nuovo libro di poesie dal titolo che adesso ci dirai tu ecco di cosa si tratta e quali sono le tematiche che più ti hanno ispirato sì è un libro di poesie è un progetto che ho iniziato almeno tre anni fa purtroppo c'è stato un ritardo anche causa tutte le problematiche che sappiamo per la questa pubblicazione il libro si titola viaggio verso l'anima effettivamente questo libro è suddiviso in parti quasi invisibili c'è una sorta di presentazione di me stesso poi c'è la descrizione dei valori che mi hanno formato sin da quando ero piccolo l'amicizia la bellezza l'osservazione della bellezza della natura e l'ultima parte del libro l'ho voluta espressamente dedicare alla calabria citando alcuni amici importantissimi così come ho affrontato una sfida a me stesso scrivendo una poesia in calabrese e qui devo ringraziare mia moglie che mi ha dato una mano magari nel nell'esatta dicitura però fondamentalmente essendo anche un linguista in carriera non potevo non scriverne una in calabrese che rendesse pienamente l'idea di come mi sono inserito qui e quel libro e ricordiamo che è stato pubblicato da una nota casa editrice calabrese si questo mi riempie di una gioia profonda perché la cito la casa editrice rubettino è una tra le più importanti che esistono oggi nel panorama culturale nazionale non solo della calabria e mi ha trovato questo posticino nella calabria editrice dove sinceramente non non avrei nemmeno creduto in un primo momento di poter essere inserito in questo contesto di questo devo ringraziare veramente di cuore questa casa editrice che ha accolto questa mia richiesta benissimo stefano un'altra domanda che riguarda sempre il tuo libro di poesie vorremmo sapere quali sono i temi che hai affrontato nella composizione di quest'opera e soprattutto quali sono state le tue fonti principali di ispirazione sicuramente magari pensiamo che la natura il mare tutto quel resto sicuramente sono compresa all'interno di quest'opera ma cosa c'è di altro l'amore per la vita tutti amiamo la vita indistintamente non perché io ho scritto questo libro non debba dire non amo la vita chiunque ama la vita amo la vita personalmente tutte queste situazioni mi aiutano ad amarla ulteriormente non posso scendere il fatto che la calabria ha mi ha dato l'occasione di approfondire me stesso di guardare dentro il mio carattere di tirar fuori quei valori genuini che mi sono stati trasmessi sin da quando ero piccolo qui li ho prodotti approfondire chiaramente l'ho voluto fortemente ho avuto tempo per farlo oggigiorno avere tempo per progettare qualcosa sembra quasi impossibile qui ho avuto il tempo di farlo e questo è stato il risultato ora vedremo quello che succederà stefano certamente e sarai legato a tutte le tue poesie che ha inserito nell'opera ma qual è quella che più ti appartiene nel senso quella che senti più vicino a te ci vuoi magari fare un breve cenno sì è la prima poesia del libro ogni volta che scendo a mare che vado a pesca sono immediatamente pronto a cogliere gli attimi di luce particolari qui in calabria c'è un cielo uno dovrebbe avere la macchina fotografica sempre appresso con sé perché ogni secondo in ogni secondo la luce cambia la stessa immagine può essere 100 mille immagini il cielo è incredibile e ci sono queste cinque righe che penso possano rappresentare tutta la mia poesia ecco ci dice il titolo stefano nelle mie poesie non c'è titolo sono delle riflessioni poesie quindi un susseguirsi continuo di di emozioni si è così non c'è altra poesia quando il cielo parla basta ascoltarlo puoi vedere l'infinito nel suo racconto e ogni volta che guardo il cielo veramente forse guardo più il cielo che stare a pesca da delle profondazioni delle emozioni profondissime incredibili delle variazioni di luce che per me sono tutto e lo esprimo nella mia poesia ecco quindi possiamo sicuramente dire che il colore azzurro è il tuo preferito si è mi ha accompagnato un po per tutta la vita sia nel lavoro con l'arma azzurra e con le mie vostre passioni prima di lasciarci e stefano a chi vuoi dire un grazie particolare per avere portato a termine diciamo questa questo tuo a questa tua fatica letteraria che finalmente diciamo ha visto la luce e che speriamo in tanti possano goderne perché credo che sia già in vendita sui vari sulle varie piattaforme letterarie sono diverse le persone che devo ringraziare ma penso che questo lo potrete leggere direttamente nei ringraziamenti sicuramente un pensiero va mia moglie che ha visto nascere tutto quanto il resto sicuramente sono dei ringraziamenti doverosi coespresso chiaramente sul libro sono tante le persone sono diverse io le ringrazio tutte non posso esimermi da non ringraziarle hanno creduto in me sin dal primo momento in cui ho detto loro di voler affrontare questo progetto quindi ovviamente adesso la tua attività non si fermerà qui ma sicuramente avrai modo di incrementare ancora la tua spirito ispirazione per una seconda opera che sicuramente soddisferà anche i palati più fini e sicuramente cercherà di mettere ancora maggiormente in luce gli aspetti positivi della nostra terra della nostra calabria e del nostro territorio bovalinese in effetti in effetti questo libro è il progetto iniziale perché un materiale sicuramente per affrontare almeno altri tre libri sono indeciso se coniugare la fotografia e la poesia potrebbe essere un prossimo titolo staremo a vedere stefano prima di lasciarci e diamo se hai voglia un messaggio ai tanti giovani che ci seguono soprattutto sui social quali sono i valori umani soprattutto professionali e culturali che secondo te un giovane di questi tempi dovrebbe avere sempre bene fissati in mente e non perdere mai di vista visto che l'aspetto della società attuale diciamo che lascia un pochino perplessi per quello che può essere il futuro noi nasciamo nella nostra famiglia i giovani devono assolutamente capire il valore della famiglia se noi siamo quello che siamo è perché tutto è partito dalla famiglia non c'è credo altro valore che possa rappresentarci poi sta a noi sviluppare crescendo studiando ampliando le nostre passioni approfondendo le arrivare veramente a creare qualcosa di bello nella nostra vita benissimo e con questa ultima domanda lasciamo il nostro carissimo amico stefano de angelis al quale ovviamente facciamo il più grosso in bocca al lupo per per il libro che ricordiamo è appena uscito nelle librerie e nelle piattaforme social ma soprattutto per quello che sarà la sua attività futura tra l'altro sappiamo di poter contare con la sua presenza nel nostro paese di una persona veramente splendida che oltre a poterci dare tantissimi consigli dal punto di vista umano ci può anche rallegrare con le sue opere che sono anche fotografiche e anche di altra natura per questo stefano noi ti ringraziamo e ti diamo appuntamento per la una prossima occasione un doveroso ringraziamento a pasquale rosaci e costa l'ionica web che mi dà l'opportunità mi ha dato l'opportunità di poter presentare questo libro ed anche sebastiano primerano l'imprenditore di bovalino che mi ha riservato questo posticino per poter descrivere il tutto un carissimo saluto a tutti